La procedura di infrazione, in particolare nell'anno in corso, è stata evitata attraverso un intervento che il Governo è stato disponibile a fare dopo aver detto che non avrebbe mai fatto nessun intervento e penso invece che quello che è accaduto oggi è che il Governo italiano nei giorni scorsi non ha appoggiato la candidatura alla Presidenza della Commissione di Franz Timmermans, che lo ricordo è un socialdemocratico, è una persona contraria all'austerità, è una persona a favore dell'aiuto europeo ai Paesi che sono al confine dell'Europa e quindi soprattutto sul tema dei migranti, tra l'altro parla italiano, conosce molto bene l'Italia e il risultato netto è stato che la Commissione avrà una Presidente che è il Ministro della Difesa tedesco Delfina della Merkel, avrà l'Allagard alla BCE, è stata una totale sconfitta dell'Italia e del Governo, con grande superficialità perché loro avrebbero dovuto dire un sì condizionato su Timmermans negoziandosi buoni portafogli, un buon portafoglio. Però vi posso dare una notizia quasi indiretta perché è finita adesso la riunione del gruppo socialdemocratico a cui sarebbe destinato la Presidenza del Parlamento che ha indicato come candidato David Sassoli cinque minuti fa, appena sono arrivato qui peraltro in ritardo e me ne scuso perché si è votato su questo e quindi speriamo che da questo punto di vista si riesca a riequilibrare. E quindi l'Italia potrà avere un suo degno rappresentante.